La pediatria di Padova e le sue criticità stanno dividendo la maggioranza in consiglio regionale la necessità di trovare una soluzione per le profonde inadeguatezze che presenta la struttura non ultimo gli allagamenti degli archivi con le piogge dei giorni scorsi o volontà di tutti gli schieramenti ma tra Lega e Forza Italia si fa fatica a trovare un accordo. Il padovano Massimiliano Barizon, ex sindaco di Albignasego ed ex assessore provinciale sostiene la necessità di spostare le attività al Sant'Antonio. Noi come gruppo di Forza Italia siamo determinati e chiediamo che ci sia una tempistica a tappe forzate in cui un tavolo tecnico esamini quelle che possono essere le soluzioni per pediatria compresa anche quella di valutare lo spostamento al Sant'Antonio in modo tale che da qui al nuovo pollo ospedaliero comunque i bimbi ammalati e i propri familiari siano messi in condizioni di normalità per poter essere curati. Il presidente della Commissione Sanità, il leghista padovano Fabrizio Boron però ribadisce le parole del governatore Zaia. Pediatria andrà all'interno del nuovo pollo ospedaliero i cui lavori inizieranno nel 2019. Pediatria ha un appalto già giudicato per la sua ristrutturazione, fatto l'anno scorso. Se si vuole fare degli interventi in manutenzione ci sono già approvati, c'è già il finanziamento, c'è già la ditta giudicatrice dell'appalto. Altri discorsi secondo me sono fuorvianti, ovvero nel momento in cui stiamo parlando di nuovo polo della salute dove all'interno ci sarà pediatria poniamo le basi di quello che è il cronoprogramma. Intanto i bambini e i loro genitori continuano ad attendere per conoscere il loro futuro. E non possiamo attendere il nuovo pollo ospedaliero dove avremo la risposta definitiva ma nel frattempo i bimbi si meritano di avere una soluzione da parte della nostra regione.